Per Piemonte, per l'Europa, Genda piana e genti bri, Summa l'erta, gisla piota, Cun ardor di Dianchi, Piemonte al dita d'amur, Caladane il creatur, Piemonte al dita d'amur, Si brandete il nostro lupo. Piemonte, c'è a tutti, che continuano la nostra cacerata insieme al ciclismo cosiddetto minore, che per il Pige Nguin, per l'uomo c'è. E che l'uomo si, è un campione, un campione che mi permette, D'accordo, è un passaprofessionista, ma fin si fa un passaprofessionista, chissà l'uncaveria più di fai. Michele Pepino, il postino volante, come lo dicevamo, che si hanno impalmato la vittoria in una fè strepitosa, la fai tè gente e passa vittoria, in tanti passani, non c'è nessuno che aveva una... Eh, un ventandese... Poi il bello che aveva, che c'è tanto che andava a principi di l'anno, ma andava alla fine, e diverte, per non perdere l'abitudine, ne curia così, faccia ciclocross, e poi monta un bico e avanti. Non l'avevo mai, non l'avevo mai. Michele Pepino. Mi dico che è un fenomeno, che avrei fai bene in quals... Mentre sono fortunato, che sul mio ciclismo, non ho potuto parlare, ne scrivi tanti articoli. Sì, sì, ma... Ma sono convinto, che avrei fai bene in qualsiasi sport, che avrei se fai. Qualsiasi, era un atleta, un atleta completa. Mi ricordo la prima corsa che l'avevo organizzata, a Monta Bike, al Sur Genmaiera. Mi ricorda? Mi ricordo. Che su mandai lassù, alla caserma, la pausa. E poi le campasse giù, che passava niente senza te, che la ciappa dritta, attraverso i prof, e la ciappa, la ciappa, una marmotta smassata. Da lì, da giù, la ficcai cinque minuti. Cinque minuti di sera, non è salita. Mi ricordo la prima. Mi ricordo bene. Mi ricordo bene con l'anima. Però inizialmente giù, sai ancora dopo... L'era l'85, 84, 86. Insomma, che... più o meno tutti, attaccando il giudiente, al 14, quindi... Non fai le categorie di bravi. L'era lì. Se l'era lì. Sì. In realtà... Ma perché... Perché la bici? Perché ho seguito la bici? La bici perché, fin da l'anno, mi piace la bici. Mi arrivavo qua da scuola, ho fatto la bici, mi stavamo in campagna, e andavamo i miei giri, andavamo dal vizio, dal loro vizio, faccio il giro, arrivavamo a casa, e poi mi cuccavo, no? Vabbè, la volta era parecchio. Sì. E poi, attraverso i prà, e via discorrendo. E mi ricordo un aneddoto che era... Mi stavo vicino alle strade, un che va a Puran, da Spinuta a Puran, e da lì passava sempre c'era due che faccio il mio rador e stavo a Puran. Mi aspettavo con la mia bici città, e poi mi chiedeva a dare a loro, e loro mi diceva, con i copi che arrivano, erano i miei copi, non la sentivo. Quindi a che età stacca? Fai le cose un po' via, la squadra? Ma l'età, dopo il militare... Che squadra? Ciclomotori Borgogesso, cioè a Borgesso era Alberti, società Borgogesso. Alberti che faceva il ciclista. E con lì la fai 6 vittorie e 3 ciclocampestri. E poi... Mi piace tantissimo, fai ciclocross, cioè la mia specialità era ciclocross, cioè la devi seguire con la strada lì. Poi le corse... La fai 2 anni, 2 anni Borgogesso. 2 anni, stante 6 e stante 7. Poi Giovanni Romana, che era con Borgesso, mi fa... La Samson? Esatto. 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 Se mi ti dice questi nomi, Michele Pepino, Pierluigi Barolo, Giuseppe Occelli, Stefano Orsi e il mitico Graziano Pantosti. Cosa ti ricorda? Eh beh... Quei anni lì ero... Le... 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 Le storie... Le... oregioni di Scor trave, Setti 10 vittorie dal primo anno e dal primo anno dopo, i 6 ciclo cross, L Gracia, hai già detto... Perché va bene... Stiamo parlando... Dir Le Valle è una cosa a questa, per la direzione, che... ... con il tempo... anche Granse Prepino ha diventato la più importante per l'Italia, come all'Europa. Fai 14 partecipazioni. Una sc также 6 vittorie, la prima continua inいう grade 1993, Quindi dopo, 10 volte sul podio, 13 tappe vengono. Non vengono l'etapa del Garesso, dovevi abbandonare, perché se andavi in America... In America facendo il circuito. Non facendo il nono. Però io non sei mai professionista. Dopo quando ero in Polizia, fatto coppia, la Gran Funt, vengono 6 e mezza. Sì, no. Che la mezza vede la pirantera. Perché le stai nella prima edizione. Perché mi ero a vederla. La telecronica è mia. La telecronica è mia. Però ti lo spaventano che la combina gli altri. Oddio, hai provato, non fai guardare le immagini. E' venuto in Moser. E' venuto Francesco Moser, ma ha detto se vuoi continuare queste immagini qui... Mi dai la bovena. Stai calmati. Più via che Dio la mandava. Non è perché ero destaccato prima della Lombarda. Io lo destaccato perché mi vedevo arrivare a Cunni. Più via che Dio la mandava. Perchè Santisiac la via Cisame andè su e l'arrivo anche per Dio Felu. Però mi ero niente sicuro di arrivare. E' discesa l'indeggio di Mombastar. La facciamo a Moser. Ma a Baracu, Santisiac lo scatta. E vado avanti. Moser io manda Mazzantini. Piallo e Mazzantini ha detto a Henrik. Se vuoi arrivare a Cunni... Se vuoi arrivare a Cunni... Le mei che ralenti e vengono a Cunni. L'aula era tignosa. Sì, sì, sì. Mi ricordo bene. Quelli del Giro delle Valle in te so assieme. Che ricordi che... Come vuoi dire nella tua vita sportiva? Il Giro delle Valle era... L'ora era l'evento. L'evento dell'anno. Cioè io mi aspettavo... Aspettavo mai che arrivi a Agust per fare il Giro delle Valle. E come professionista... Esatto. Mi ricordo proprio il primo anno che l'ho organizzato. Noi Riccardo avevamo i negozi. Non c'era lì. Poi avevo fatto i cambiati in grado. E mi rilassero insieme a Buenelma... ...e... 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 Naling. Ah, Naling. Naling. Che guidavo a Ciale e mi rilassero i cambiati in grado. E che passasse davanti nella discesa della cosa... Ma l'aveva servito come andava via. Un diluvio via via. Sì, sì. Sì, sì. E che una volta superato la Lombarda... ...poi... 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 ...poi andrei due turni in grado. Cioè... Ho avuto avanti... ...ma... ...da parte mia... ...tambi era la voglia... ...dare via alcuni... ...i... ...e finì... No, perché... ...era la prima volta che ci vantassero... ...che la distanza lì? Sì... ...ma anche se avessi allenato... ...il'alto... ...ma ero allenata... ...l'avevo fatto il giro... ...e... ...vi vedere un po' come ero in grado... ...e... ...e... ...connessi un anno... ...e... ...un po' prima... ...e... ...in grado di essere qui... ...di... ...prima... Proprio per la vista dei due passi, no? Abituare le corse d'amatura, allora si sente. Eh si, no. Andessero a 224 con quelle bestie lì. Allora, in quel fondo esistono un anno. Cioè, a meno da Gnauti, e voilà. Perciò a Gnauti erano abituati a fare 80 km a 20 anni, no? Perciò a fare più di 200 km l'era un'impresa. Anche a Ministrette. Oltre i 200 km il tempo, il tempo bestial, e tre salite, meno là, due. Tre bestiali. Ma anche l'ultima già veniva con la... Sì, sì, quando sbagliate. Dall'altra, quando ha già l'olì le gambe con la discesa, che vengono le gambe dure, perché lei vende 5-30 km di discesa nella piega. Arrivano... Come si fai a parate dalla piega? Tutti hanno il problema della discesa, fai più male la discesa che le salite. Ma a me mi ricordo che l'avevo buttata... Gli ero buttata la mandlina al bivio della Lombarda. Bivio, Sant'Anna Lombarda. Di fatto è andare giù e ricuffa. Eh, per forza. Sempre la sua. Però... Poi mi ricordo nemmeno guardare per due anni lunghi, sicuramente. Quindi semmai aveva proprio frat frat. No, beh, mi ricordo che all'angiu dalla Lombarda, d'isola, perché fino a l'isola... Lei n'en fei niente. C'ho s'enconvocato la salita. No, perché la strada era anche strata. Però d'isola andò giù, che la strada era... se eslargava... Mi ricordo che lei mangia una banana tramulando, perché comunque tramulava anche... Ma che lo vas mangiare? Una banana... No, aspetta, una banana prima d'arriva a l'isola, dopo lei mangiava. Poi quando hai visto le ammiraglie che seguivo il professionista, hai detto... Ma non è possibile, perché... Insomma, la Lombarda l'avevo più di tre minuti, tre minuti al mese da lui... Beh, quelle le immagini, tre minuti al mese. C'è, ma come andassi in discesa... Vedo io la parola... Mi l'avevo... T'è, la foto bella lì, qui lì ha due tibù, no? Che l'aveva due racchei... L'obbligua, sì. L'era rigidissima, mi si ne sa l'era lì, che la dà... Che risi a tenere la bici, mi lo sai nè, ma faccia nè, mi lo capisci nè. Le vengono passate davanti, con quel balun volante lì, la cosa... L'aria si trova nè... L'aria che vuoi blu... Un attimo stai davanti... Ma in discesa l'era imbattibile... Eh? In discesa l'era imbattibile, un piccolo... Noi, in gira le valli, nel quarto video di giù, arrivavo a Garescio, ma arrivando a Garescio veniva a Montesù, una salita, due chilometri, costa Sarvaia... Tocca alle giù le precipissi, e un chilometro è parei... E passano su, aveva tredda secondi, se Bonato... E in discesa, Bonato lo vedia, al termini di stagiscesa gli è una cesotta, no? Che li ha fai al barbis, al scalin? Bonato arriva giù a tutta e mi ha detto, mi sono visto sull'altare... A tirare la fredda, il lungo che tirare... Ma anche chi cambia ruoto, chi lo seguia... In discesa niente da fare, ne moto, ne macchina... E poi l'estanteneo, l'estanteneo è passato dilettante... Che esperienze ne stai lì? Ma è stata un'esperienza... Una bella esperienza... Secondo esso non sei convinto? Non neanche io ne ero convinto, mi avevo poca esperienza... Mi avevo due anni in bici... Cambia tutto... Un allievo che è passato dilettante... Passato da 60 a 70 km... E poi da Sul... Perché l'Alsant Sol era Sul... Sì, mi ricordo da Sul... Però insomma, le sempre fai le gare più belle che era sul calendario... L'unica gara seconda, le fai seconda... E per poche... Ma mi ricordo sempre con cui prima... Il Giro del Sestri, il Trofeo Bon Giovanni... Milano Tortona... L'amore di Carlo Alassio... L'amore degli anni del 23... Voilà... Le più belle le fai tutte... Mi piaceva confrontarmi con quei più forti... E sempre stai parei... Anche il Giro del Valli... Mi aspettavo mai che arrivesse... Con l'evento lì... Perché per... Per... Mi misuravo con loro... Lei mai partì la gara... Cioè... E laddò se torna a passare... Di amatori... E laddò se torna agli amatori... Ma tomatini mobili... E tomatini mobili... E tomatini mobili... Sì... Ecco quello... Ma fai tre società... Fai Samsung Mobili... Trinità... Trinità... E lì Pets Racing... L'era lì... L'era sempre con Luca... E lì era la grossa rivalità... Samsung... Contra Michele Pepino... Oh... Matteo e Teresa... Due sport... Due sport... Mi fai un animato... A fare le squadre... Tu... Arrivai a fare le miste... E lì... Mi arriva... Dal piano... Cerpellone... Che si divertivano... Codipi... Codipi... Corriva l'Indoraina... Però... Le set tappe... Ne saliva due... Due fasi all'azione... E piava distante... Per... Gran Premio della Montagna... Alla Slamaya... Sempre alla Sala di Haiti... Sì... Tappe... Avevano 7 mesi... Dal gruppo... Ma è logica... Gran Premio della Montagna... Vigliava... 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 E poi... L'82... Si passava la Trinità... Sempre a Tietà... Che era con... Con... Un sponsor... Si... Che cavallo... Che stai colletto... Le stai colletto... Le stai colletto... Ma era colletto... Per i due anni con lui... E la Pedresing... Quei era? La Pedresing... Era la via... Che fe... Con Luca Stegian... L'asio con un ponte... Bici... Componte di bici... Però... Quei anni lì... Si... io ero sempre con Luca la viola maia per dressing perchè appunto l'havia viva quando eravamo venuti con noi tanti invitori perchè questo amore con Trinità? beh Trinità che vogliamo anche ricordare i tuoi compagni Storix, Papiare, Giovanni Tonelli Buongioan, Adrian Favola Dino Andreotti che vengono in giro ma li ricordavano con te sì, sì, è vero erano grandi dirigenti come la Tuada e Simeone sì, la Tuada e Simeone, sì, sono sempre queste persone no, ma anche in tutti i momenti cambiavano, però c'era lì era sempre ma? era il problema sì, sì è sempre che i dinevano a cambiare Corrado, Donadio, lo ricordavano anche con me l'amore che sta con la città della Trinità ma è perchè mia funnale è la Trinità si, si ha più cambiato, le caratteristiche di richieste io ti dico, ma faria la squadra se non c'è me a Mieto e Aldi se poi PPP mi dico, non c'è me a Mieto e Simeone mi belezza le cose fin da l'utente Sers comunque la via Vagnaglia, se il Gran Fondo Sers Giro e Valle Cunesi Gran Fondo Milano Sanremo in Gran Fondo Bra Bra il campionato europeo mountain bike il record dell'ora per amatori che non sa io neanche aveva fallo nel 92 a 45 e 57 dell'ora il tempo è di coppia come la stai? è la stessa dura dura beh, la preparazione già all'inverno è una palestra che mi sterserà quando mi dà si attesta la preparazione quindi a secco e tutto lì non è mai tanto a me no, no, no la palestra fora fora, sì una palestra con pesi piuttosto anche su Tassaro ma anche più dura più di del campion italiano lui comunque, scusa tornando al record dell'ora l'estetà dura dopo cioè quando sono calato in bici le ho fette un po' insomma, defaticamente poi quando sono un po' più fermate sono stai dura ora, ti giuro riuscite a bugeme riuscite a bugeme sì, perché la tensione è nuova riuscite a bugeme al massimo infatti è patetta è doppia, pian pianino ma vedi che è la completa tutta non è salita 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 ciclo e poi giù 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 parlando con Mozart gli ultimi vienvenuti le gambe come avessero tutti spigli le schede in inferno l'ultima quattora l'ultima quattora che lo fanno tutto fuori a soglia fino a 46 minuti è stato un soglia insomma con il cardiofrequenzimetro ma l'ultima quattora si bagna lì l'eterno si 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 comunque insomma l'endetta bing anche quella lì che e poi l'ultima quattora in america la giusca ha una partecipazione all'aliengi baston l'aliengi amatori open lei fa bellissima bellissima l'aliengi baston diegi giro delle fiandre e parigi rubè bellissima 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 no è una festa non è come una gran fondo che sono tutti sai le fiandre lì il ciclismo le guadagnate il caldo lì si parla 15-20 mila partenti 20 mila partenti cioè una festa ma la giusta è tutto il percorso fa un milione di persone è incredibile la settimana prima lì è una festa il paese due parti è una festa per noi è un po' di sol e c'è un po' di sol sicuro lì la rubè è nel comitato che i contadini lo fanno fanno te gli altri drissi l'hanno passato il monumento nazionale questo è e i tuoi grandi avversari d'amatur Valenza Masi Santisia Gabriele Moreau Anderlini Anderlini i francesi la mimosa sprint che ogni anno portava i due basta di venire il giro su mano chi è il piccolo che ti dà i fil da torsi beh sicuramente uno dei primi che la dà i fil da torsi è stato Valenza fin da subito ancora per la Sanson quindi madama Valenza poi sì stai Santisia beh Masi in salita era quasi impossibile battere Masi è quello stai un di primi professionisti che vi attaccato esatto 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 l'avvio battuto con una rio al collo della Maddalena l'era n'entendua non sarà parlando di battuto comunque era un osso duro in salita ma riesco a guagnare la corsa lì in Val d'Austra capiremo la montagna la corsa in montagna ma l'era un campionato italiano campionato italiano di montagna a Tornion e dopo questo passaggio dalle corsa a tappe con questi chilometraggi da 80 se cambia tutto a portare le gran fondo in due mesure di 200 km cambia tipo di allenamento cambia l'italiano la montagna a Tornion a San Vincan a San Vincan Tornion cambia tutto il metodo di allenamento alimentazione si obbligato le due adattiamo perché comunque vengono con Adriano torniamo il baracchino 47 e media no con lì 47 con 46 e con Andreotti con Dino Andreotti che avevi fatto il 47 ma Dino era un bel cronomen l'avevi fatto il record con Dino Andreotti ah disio lì la tua preparazione ma la preparazione anche la mentalità cambia la testa si beh si comunque quando ero in prossimità magari c'è una gran in fondo chiaramente già da prima tassi navi facendo chilometri all'evento no e poi chiaramente se disumare le navi per una cosa perdise un po' un sinistro l'altra era inevitabile comunque mi ma facciò come professionista di fare l'allenamento allung durante la settimana facciate 200 200 di 200 chilometri le mai passate però stas magari sin cesura in bici come pensas di come venire al mondo del gran fondo dove in sac di gente che è piantale professionista vengono a cura sì perché dice ma mi vengono a cura e lo so perché hanno visibilità comunque poi ci sono riviste speciali che i danni gran fondo del dolomiti adriano da 6 ore al mattino diretta televisiva diretta Cassani mi dice che un amico dice non sai neanche di però certo certo che dimenti e va bene siamo di nuovo arrivati alla fine dei campioni anche stasmane sì non c'è alcuni per dare pagine buone al ciclismo è che non c'è finito non è possibile c'era bella c'era bella senza vola ma Mariano l'hai già detto 20 minuti da 7 20 a tutti è sempre piotto in gamba e mi raccomando farli sempre in piemontese perché vengono i nostri vengono non c'è non c'è arrivederci la piana è gent di brì sum alerta di sabbiota con ardur di dai antì di ad amur caladà nel creatur E' un test, e' un teo vita, si brandetta il nostro rumore.